Lo vedi? Ok. Vanno tagliati lì e accompagnati qua sotto di noi. Vedi? Sì, guarda, sono là. Quindi o li tagliamo là, brandeggiano, poi vanno solo verticali, vanno poi tagliati lì là. O ci andiamo sopra. Devo tagliare l'ultimo cavo, ne ho tagliati lì. Ok. Ok. Mi raccomando, controllate. Vai, vai, vai. Ecco qua, dai. Vai, cala. 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 È un taglia d'aspezia, appena scende il tubo ci sleghi la corda che la recuperiamo per l'altro. Stelle di tutto quello che prende lì ma sp preventsokato con successo. Sì, guarda. Oh, poco più attorno. Wow. Grazie.